stai chiedendo se c'è la tuta questa rosso nera bianco nera e quella azzurra rosso nera arriva poi bianco nera arriva quella azzurra arriva e la forza non l'avete capito non mi mettete in imbarazzo abbiamo tutti i colori abbiamo tutti i colori e non abbiamo solo i colori tutti i colori delle tute che miseria chi fa fare essere sopparletico come nel mio caso abbiamo anche le t-shirt in cotone che prezzo che prezzo 10 euro come le vendono tutti 4,90 4,90 t-shirt in cotone sì sì 4,90 t-shirt in cotone i colori non lo so fate voi 20 15 30 non lo so ma sicuramente mancherà qualche misura è aggressivo volete le scarpe dell'adiatora 19 e 90 29 e 90 39 e 90 in parole povere due cose potete fare comprare dove volete perché state bene economicamente e fare sport e dimagrire oppure comprare solo e soltanto da noi perché intanto vi chiese mi chiovi ad un pare perché appena faccio palestra appena muovo sicuramente chissà dopo l'incidente ha preso l'idea sì ma però siamo chiusi come fanno a comprare 4 maggio in poi correrete come i pazzi avrete bisogno di scarpe buone comode e a prezzi vantaggiosi di tute buone comode e a prezzi vantaggiosi qua mi chiedono se le possono comprare online oh caspita sì chiedevano dimagrire prima del 4 maggio sì e allora la spedizione per palermo e provincia è gratuita saaa tranne che per le magliettine perché la spedizione costerebbe tanto quanto le magliettine quindi casomai tute in magliettina la mettiamo insieme e la spedizione viene su gratuita ugualmente ok quindi ci possiamo allenare anche con gli sconti dovete allenarvi anche con gli sconti ah una cosa dico lasciate perdere potete tranquillamente fare quello che volete ripeto andate a comprare dove volete ma la cosa è sicura eh signore beh se qualcosa volete risparmiare in termini di denaro ma non in termini di qualità noi siamo qui ciao ciao